E allora facciamo una cosa, partiamo, partiamo subito dall'Inter, cerchiamo di capire Giulio che cosa non funziona nei nerazzurri, nei nerazzurri in crisi, il solito dicembre e gennaio che distrugge le certezze. Allora, siccome è un naturale quasi principio di Alzheimer, l'età mi impone di tirare fuori un foglietto e di rispondere alla tua domanda in un modo, diciamo, il foglietto infatti è sbagliato e quindi già partiamo benissimo. Chiedimi cosa ti serve perché forse parliamo della stessa cosa. Allora, la risposta alla tua domanda è questa, fate bene attenzione. Che succede? Benitez, Gasperini, potrei farlo anche in rima, volendo. Tutti gli allenatori è lì per dare. Benitez, Gasperini, Stramaccioni, Ranieri, Vecchi, Mancini, Mazzarri, Leonardo, Spalletti. Tutti i vostri burini. Se noi dicessimo che Spalletti ha qualche errore, come fanno tutti gli allenatori, ha fatto qualche errore, ha commesso degli errori in sede soprattutto di campagna acquisti, di valutazione di uomini che non avevano più tanta voglia di giocare al calcio e che sono stati, come dire, indirizzati come gli elementi di punta del rilancio dell'Inter. Spalletti ha sbagliato. Se dicessimo che Spalletti ogni tanto ha fatto degli errori di valutazione nella formazione, nel modulo, ha sbagliato. Ma se noi dicessimo che il problema oggi dell'Inter si chiama Luciano Spalletti, noi con l'elenco di questo splendido foglietto tirato fuori, vediamo che il problema Spalletti, cioè l'Inter, non ha un problema oggi che è un problema stagionale, è un problema momentaneo, è un problema congiunturale. Il problema dell'Inter è strutturale ed è antico almeno nove anni. Qui mi fermo perché magari approfondiremo la cosa e insomma non mi dilungo troppo adesso. No ma tra un po' ti farò comunque dilungare, caro Giulio Peroni, perché dobbiamo capire che cosa non funziona. Effettivamente l'Inter dal 2012, più o meno con un intervallo legato alla presenza di Pioli, dove arrivarono sette vittorie consecutive... Pioli, l'ho dimenticato. L'hai dimenticato, l'hai dimenticato, caro Giulio. E' talmente lungo l'elenco che è uscito proprio, la pena non aveva più un chiotto. C'è anche Pioli, però ti dicevo, a parte con Pioli nel 2015, poi l'Inter sostanzialmente tra dicembre e gennaio non riesce a fare più di 9-8 punti in 10 partite. Papa, vengo da te, secondo te che cosa succede a Inera Azzurri? Diciamo che sono tanti motivi che magari parte da lontano, perché l'Inter è partito benissimo sulla Champions League e tutti pensavano che facevano un bel trasguardo. E dopo questo fallimento che è partito da un partito che è impossibile da vincere, lui l'ha vinto. E le partite che magari sulla tavola doveva vincere tranquillamente con Parma e tutte queste cose, li ha seguiti. E a un certo punto la squadra non ha avuto stabilità e mano a mano lo perdi. E dopo Riccardo è l'attaccante più forte del campionato, con il suo rinnovo, tutto, parliamo, sono quasi 3-4 mesi, parliamo di questo. Magari potevano parlare, magari un altro attaccante poteva venire a disturbare o qualcosa del mercato. Non hanno fatto niente, hanno parlato solo Riccardo, Riccardo così, però non è ancora concluso. E un attaccante ha bisogno di un po' di tranquillità. Ok, tu dici che le questioni del rinnovo stanno disturbando? No, non è questo motivo, magari sono tanti motivi. Sai, quando non sei dentro una struttura non puoi sapere quali sono veramente i propri problemi. Però adesso, diciamo la verità, l'Inter sta passando dei momenti proprio duri. Ma sì Giulio, un attimo solo, voglio chiedere a papà, ti sarà capitato nella tua carriera un momento in cui la pala non voleva proprio entrare? Ecco, in queste situazioni come l'hai gestita? Se dovessi dare un consiglio a Di Cardi su come andare avanti in una situazione in cui tutto sembra essere per il verso sbagliato? No, ovviamente fa parte anche del calcio. Questo momento brutto fa parte del calcio. Se tutte le cose vanno sempre lisce possiamo fare tante domande. Oggi Riccardo, lo sappiamo benissimo, è un grande attaccante. Lui aveva due palloni e le due le metteva dentro. Diciamo che in questo momento non gli arriva bene, soprattutto le cose facili davanti a porta, che lui faceva sempre dei gol molto difficili. Oggi diciamo che non sta arrivando bene. Magari in generale quando le cose non arrivano bene poteva anche andare per un altro giocatore e puoi fare la differenza. Però in questo momento non va bene e quando le cose non girano, non gira. Papa dice una cosa molto interessante Giulio, nel senso, provo a tradurre, non è che Icardi deve per forza segnare tutte le partite, ossia può anche segnare qualcun altro. Quando lui vive, magari anche fisiologicamente, è un momento negativo. Allora, intanto non sono le voci sul suo rinnovo che danno fastidio a lui, ma sono le voci sul suo rinnovo che danno fastidio a tutti quelli che vanno e spendono dei soldi per vederlo giocare. Lui è un professionista, esiste una deontologia professionale che dovrebbe, come dire, questo vale, dovrebbe valere per qualsiasi calciatore, per cui il signor Icardi, che non gli rinnovino il contratto fino all'ultima giornata, deve dimostrare una professionalità. E questo è quanto. Allora, Icardi è un giocatore che secondo me va venduto. Va venduto perché è un giocatore a cui va rinnovato immediatamente il contratto, non perché non sia un giocatore di valore, non perché sia un giocatore a cui gli riconosciamo di essere stato, come dire, l'uomo di punta di una squadra Icardi dipendente. Cioè, senza i gol di Icardi nessuno faceva gol, tranne Ipericic. Quest'anno non ci sono manco quelli e quindi l'Inter non segna proprio. Sono tre, quattro partite che non fa gol. Lazio compresa se escludiamo il rigorino dell'ultimo istante. Allora, Icardi va venduto perché? Perché è un giocatore che fa parte, a mio avviso, di un'Inter finita, di un periodo che bisogna troncarlo, bisogna troncarlo alla radice. Quando un albero non dà più i frutti, anche se ha ancora dei bei rami, va cambiato, va potato. Icardi fa parte di quest'Inter, che è un Inter, mi spiace di dirlo, non vincente, è un Inter stagnante, l'hai ricordato tu all'inizio, è un Inter che ripete gli stessi errori da sempre. E poi aggiungiamo che Icardi, io credo che faccia molto meglio di andare via perché probabilmente un cambio di aria gli potrebbe dare nuova linfa, nuovi stimoli. Icardi ha avuto, e qui non è colpa sua, qualcuno, Mancini, ha avuto l'idea, non proprio, secondo me, brillantissima, di mettergli la fascia di capitano. Ragazzi, la fascia di capitano la deve portare uno che ha esperienza, uno che ha voglia, uno che certe cose, come il rinnovo di contratto, le tratta in separata sede, non pubblicamente per bocca della moglie, procuratrice. Uno che deve appendere i giocatori al muro, uno che va in conferenza stampa, non uno che il proprio allenatore gli dice che deve crescere. No, il capitano deve essere già cresciuto, non deve crescere. E questo ragazzo è capitano suo malgrado. Secondo me, quindi, io credo che gli debbano fare questo rinnovo, non troppo alto se no non lo riescono a vendere. 110 milioni, per me è un'utopia, nessuno lo cercherà mai a quella cifra. Icardi è un bomber che fa gol, ma come li fa? È un giocatore che li deve fare davanti alla porta, non è certo Milito che si va a prendere la palla e dribbla. È un giocatore la cui squadra deve giocare per lui. Secondo me, nuova vita Icardi da un'altra parte e nuova, come dire, nuova Inter senza Icardi. La pensi anche tu così, Papa, ossia l'Inter dovrebbe ricominciare senza Icardi? Sì, dobbiamo rispettare anche la sua opinione, giustamente, perché ognuno ha il suo pensiero. Però ha ragione, perché negli ultimi anni l'Inter ha spesso tanti soldi, però ha raccolto pochissimo. Dopo da Mourinho l'Inter non si è più vista. Però è giustamente che ogni tanto, quando vai e le cose non vanno bene, bisogna fermarci un attimo, guardare quale metodo possiamo fare. Adesso hanno un direttore sportivo, che ha molte esperienze, che è venuta dalla Juve, può darsi che il prossimo anno possono anche pensare di fare un bel Inter per gli altri anni. Adesso, calcio come calcio, bisogna avere dei grandi campioni per fare dei passi importanti. Adesso però bisogna pensare soprattutto al presente, Giulio, ossia, ok, l'anno prossimo magari l'Inter potrebbe anche vendere Icardi, però l'Inter adesso ha un obiettivo, quello di entrare in Champions League, altrimenti probabilmente non dipenderà neanche più da lei trattenere o meno Icardi. Ma infatti la scorsa settimana, non ti ho interrotto. No, no, l'unica cosa che volevo chiederti è che cosa deve fare l'Inter con Spalletti. Allora, l'Inter intanto, proprio la scorsa settimana, uno diceva, vabbè, ho perso col Torino, ma che ci fosse dell'avvisaglia di crollo verticale da parte dell'Inter era piuttosto chiaro. Crollo di voglia, crollo di idee, probabilmente troppa gente che sa di doversene andare. questo è al netto della problematica Icardi. Persi, la questione persi. Insomma, una specie di anarchia, di insoddisfazione globale che ha messo nelle condizioni l'allenatore, e ti rispondo, di non avere più il polso della situazione. Allora, quindi, un po' è demerito di Spalletti, ma un po' è, io credo, demerito di una struttura. La struttura Inter necessita non di un restyling, di una rivoluzione che ha iniziato, perché prendere Marotta è un gran colpo. Marotta è il futuro. Se tu mi chiedi qual è, come si chiama la speranza dell'Inter... Però sai che da quando è arrivato Marotta l'Inter non ne ha più... Sì, però io penso anche, e mi si faceva notare, che Marotta ha fatto grandi cose in una Juventus in cui c'era qualche supporto. Per esempio la figura di Nedved. Allora, l'Inter perché no? Io sento di cambiasso allenatore. No, io cambiasso, lo vedrei come uomo di Marotta. Ma ci sarebbe Zanetti, no? No. Allora, Zanetti c'è, rappresenta l'Inter, è un'icona, un personaggio clamoroso, forse l'ultimo dei moicani per certi versi. Ma cambiasso è quell'uomo, io me lo ricordo, era quello veramente che dentro lo spogliatoio dava, è come L'Oreali degli anni Ottanta, come il Buffon per la Juve, dà quell'energia, quel senso di appartenenza proiettato che Marotta ha un altro tipo di ruolo. Per cui io vedrei molto bene l'ingresso di Cambiasso con Marotta, un po' come Marotta con Edved. Allora, io credo che questo potrebbe essere l'inizio di un processo interessante di rivoluzione societaria. All'Inter ciò che manca è qualcuno che copra le spalle all'allenatore di turno, perché l'elenco che del mio fogliettino, e mancava persino Pioli, e me l'hai fatto notare, si sono tutti cocciati contro lo stesso problema, cioè di essere soli a guidare la zattera. Allora, nelle società ci deve essere un organigramma snello di poche persone competenti, un organigramma verticale, dove Tizio risponde a Caio. Ma non può esserci un solo uomo, Marotta. Per cui io aspico il famoso terzo uomo che all'Inter manca da avvicinare a Marotta, che può essere il grandissimo Cambiasso, che oltretutto è l'Inter Cambiasso, questo uomo che faccia da tramite tra uno spogliatoio che oggi non ha leader. C'è una figura del genere che si chiama club manager, questa nuova figura che nell'Inter è stata Stankovic. Manca! Allora, non essendoci ancora nei giocatori, ecco perché io, attenzione, posso essere frainteso nel dire che Cardi, secondo me, ha finito la sua stagione all'Inter, non intendo dire che non valga il giocatore. Il giocatore, io sono convinto che da un'altra parte ricomincerebbe a fare tanti gol, ma per lui, perché si deve chiudere, secondo me, un cerco, così come per Perisic, ci vuole aria nuova, uomini nuovi, capitani nuovi, ma questo però deve esserci prima una società forte, perché tu puoi anche avere, tra i leader che arrivano, spendi 200 milioni, ma se non hai dietro una situazione, un humus, l'humus, cioè quell'ambiente che ti dice figli miei, qua o si vince o si vince, come avviene da altre parti, possono arrivare 10 Cristiano Ronaldo. Questo è, insomma, il pensiero di Giulio Veroni, però non mi ha ancora detto che se Spalletti deve rimanere o no. Allora, Spalletti, Marotta è stato un grandissimo, perché in quel senso ha cambiato? Allora, il problema dell'Inter è una squadra di gente svogliata, barra in procinto di andarsene, barra che ha fatto la propria epoca. Allora, Spalletti non è diventato un brocco, non ha più in mano la squadra, ma evidentemente deve cercare, l'Inter deve mettere delle pezze, allora, siccome in Europa lì che difficilmente andrà avanti, vabbè, tutto può succedere. Se è uscito la Coppa Italia deve salvaguardare la Champions. Secondo me ci vuole che la società supporti, e lo sta facendo, l'ha detto Marotta, quindi non ha senso fare un cambio adesso, si prendano le loro responsabilità, questi giocatori che sembrano poco interessati, l'Inter è terza, ma con il Milan, le Calcagne, la Lazio e tutti gli altri, rischia, lui deve proseguire sulla sua linea e fare delle scelte anche impopolari. Deve resettare alcune gerarchie e far subentrare qualche giro. Voglio chiedere a Papa, abbiamo un giocatore di calcio, ha giocato anche in Serie A, in club importanti, in Premier League, ma è veramente possibile che, insomma, nella vostra condizione, ad un certo punto, vengano meno le motivazioni, venga meno la voglia di giocare, come sta succedendo all'Inter? No, non penso che avrà voglia di non giocare, un giocatore piace sempre giocare, anche vincere le partite, però in generale bisogna dare un piccolo scosso, magari oggi mettere tutti i giocatori, anche sulla rosa, gli stessi piedi in legalità e fare la concorrenza. E così almeno alcuni stanno dormendo, può darsi che vanno a svegliarsi, perché possono perdere anche il loro ruolo. Perché oggi se tu vedi Bologna, che era già morto, e oggi, ieri, hanno fatto un partitone, hanno vinto. E tanti giocatori che non giocavano li hanno visti in campo. Nella vita bisogna ogni tanto mettere tutta la rosa, gli stessi piedi in legalità, e chi dà di più va in campo. Così almeno le gente possono anche svegliare, secondo me. Quindi giusto, secondo te, fare una rivoluzione anche tattica, insomma, non devono giocare per forza, per forza quelli, provare a cambiare, anche mettendo in campo giocatori che magari li abbiamo visti di meno. Sì, perché alcuni oggi, purtroppo, dall'inizio del campionato, fino adesso, non hanno avuto opportunità di esprimerci. È un'occasione per loro di fare vedere il fame, perché in generale chi va in banchino, o chi va in tribù, ha più fame quelle che sono in campo. O magari, se sei molto tranquillo che tanto gioco, qualche cosa può succedere e io vado a giocare. Si vede qualcuno che entra in campo e ti fa vedere più fame, secondo te, ti può dare tanti costi. Nell'ora, lo andiamo ad ascoltare, Giuseppe Marotta, sul momento negativo dell'Inter, su Spalletti, sulle voci che si rincorrono sul futuro anche dell'allenatore interista. Marotta. Ma è normale che parliamo di un momento di crisi, un momento negativo della squadra, ma questo non significa assolutamente inficiare tutto quello di positivo che c'è stato fino ad oggi. Siamo meritatamente terzi in classifica. Abbiamo, sì, statisticamente quattro punti in meno della stagione passata, però ci sono ancora tante partite. C'è soprattutto la volontà da parte di tutte le componenti societarie di superare questo momento negativo che fa parte comunque fisiologicamente di quello che è un cammino stagionale che quindi non deve essere preso come una condanna definitiva. credo che sia un fatto abbastanza isolato cioè soprattutto credo che l'analisi vada nel rimarcare un processo di crescita di questa squadra che deve avvenire ancora soprattutto nell'ambito di quello che è un fenomeno di continuità che oggi non esiste e soprattutto anche in una mentalità vincente che credo sia una delle difficoltà che abbiamo in questo gruppo per cui ripeto il lavoro di Spalletti il lavoro della società però orientato proprio a trovare quella maturità che è sinonimo anche di maturazione che è sinonimo di motivazione che è sinonimo anche di cultura della vittoria. Giulio come giudichi le parole di Marotta? Marotta non fa bene fa benissimo a difendere sempre i panni sporchi si lavano in famiglia lui deve sempre difendere i propri giocatori il proprio allenatore quindi è la figura giusta io credo che Marotta sia venuto non solo per il guadagno ma per la validità del progetto Suning è un grande gruppo non credo che voglia rimanere diciamo nello stallo o comunque nell'essere non vincente per sempre allora Marotta ha difeso tutti l'unica cosa ha parlato ma ha fatto bene di situazione come dire del momento della crisi dell'Inter ovviamente sa benissimo anche lui che non è vero la situazione la crisi dell'Inter è una crisi strutturale e antica quasi decennale questo richiede del grande lavoro certamente richiede anche che lui abbia l'intelligenza come ha di non spiattellare al mondo intero che ci sarà una grossa rivoluzione anche se è stato Marotta a dire Perisic vuole andare via allora sì io credo che dietro a questa questa è un po' una particolarità forse voleva dire al giocatore voleva far capire che ragazzo ora la tua professionalità è nelle mani tue tutti sanno quello che vuoi però è anche vero che Marotta adesso tra l'altro si parlava di Spalletti diceva giustamente dicevamo c'è questa situazione Conte allora io credo che Spalletti sia veramente un pochino a termine a meno che non vada a vincere l'Europa League ovviamente quello sarebbe un colpo di scena è chiaro che un allenatore si rivaluterebbe allora tu dicevi giustamente cioè l'Inter chiamata un doveroso no forse era Luca che diceva insomma ha una riscossa allora questo è il punto di partenza cioè in questo momento Marotta ha due strade cioè vivere l'Inter alla giornata e fare in modo che non venga dilapidato il discorso cempio l'altro è quello del nuovo allenatore della nuova struttura societaria della nuova come dure del nuovo impulso della nuova mission Antonio Conte allora Antonio Conte che è quello di cui si parla allora io ho dei pro e dei conto posso dirle allora Antonio Conte è un vincente è un grande motivatore è carismatico è uno che non accetterebbe mai come dire il filotto di partite dell'Inter di questo gennaio ha dalla sua però cioè anzi contro di lui che diciamo è la sua caratteristica la sua peculiarità che lui non regge più di due anni è uno che dopo un po' mette in forse la propria permanenza solo che e questo è un pericolo l'Inter ci deve pensare bene perché metterebbe in casa un grande allenatore molto esigente con le idee chiare vincente ma a termine lui la storia ce lo insegna più di due anni non ci sta in nazionale la Juve in Inghilterra succede qualcosa per cui lui consuma il rapporto facilmente però stiamo parlando comunque di un allenatore che non transige però ripeto caro Ferdinando lui necessita con Marotta di una figura intermedia di una figura esterna diciamo allo spogliatoio che entri nel momento opportuno per scusate il termine un po' forte prendere giocatori e metterli di fronte alla loro responsabilità volevo dire una cosa più forte sono stato diplomatico questa è la situazione quindi legata all'Inter ne parleremo anche dopo adesso ci fermiamo torneremo da Luca per sentire altri grandi protagonisti vi preannuncio uno show del presidente Ferrero restate con noi attenzione un personaggio incredibile ha paura Ignazio Larussa di Gervinio c'è il Parma contro l'Inter beh l'Inter ormai ha paura soprattutto delle squadre più deboli io preferirei giocare sempre contro squadre tipo il Napoli la stessa Juventus il Milan il vero problema per noi è giocare col Chievo col Bologna quindi il Parma è una via di mezzo non ho paura quindi meglio gli scontri diretti piuttosto che le medie lo dicono i risultati purtroppo il che già è una risposta alle ragioni della crisi dell'Inter è un problema prima di tutto di testa evidentemente di motivazione adesso ci entreremo il tempo di fatturare perché si fattura anche alla Monday Night e anche tanto super spot a me per distacco la bruttezza dell'Inter la bruttezza dell'Inter la confusione tattica sì una cosa per me inspiegabile con l'involuzione delle ultime partite 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 sempre le stesse non c'è singolo che tenga rispetto al vero scandalo dal mio punto di vista di questa parte di campionato tra l'altro poi i numeri sono impietosi lo vedete li abbiamo preparati in grafica non è la prima volta che la crisi dell'Inter coincide con questo periodo dell'anno perché da dicembre a febraglio negli ultimi anni dal 2011 2012 c'è solo una parentesi positiva con Stefano Pioli allenatore dell'Inter che l'Inter purtroppo fa questi numeri e i numeri sono impietosi Spalletti ha fatto già una data era in testa alla classifica e poi ha cominciato a avere questo calo solo che allora dicembre e febbraio sono sempre questi i mesi cioè arriva l'inverno l'inverno caro la russa inizia a far freddo che non abbiamo visto posso per una volta non essere d'accordo con il direttore purtroppo non è una sorpresa cioè con Alfredo non è una sorpresa sì con Alfredo purtroppo non è una sorpresa perché appunto siamo noi interisti quando comincia ad arrivare freddo cominciamo a tremare subito lei ha ragione da vendere no lei ha ragione da vendere però la cifra tecnica è impressionante in negativo cioè le singole partite le ultime soprattutto le ultime le ultime credo che le ultime 4-5 Sassuolo, Torino, Bologna dai, eccole sì, sono state partite impronosticabili ma neanche un minimo sindacale purtroppo però la verità lo dico subito quello che penso io penso che l'Inter non può fare a meno dei gol di Cardi questa è Inter appena i Cardi non segna si blocca è quello appena i Cardi non segna per qualche domenica invece con Keita infortunato che forse era l'unico che poteva salvarci tutto si blocca i Cardi ha 9 gol in meno rispetto all'anno scorso l'Inter ha 4 punti in meno rispetto all'anno scorso 6 gol in meno complessivamente appunto ma soprattutto perché non ha segnato nelle ultime partite per cui è tutta una seguita fino a un certo punto i gol in meno non hanno importanza anche perché ma la metà ne ha fatto la metà adesso complessivamente alla metà proprio perché si è bloccato nelle ultime partite e credo che questo l'Inter di oggi non se lo possa permettere l'Inter non ha un gioco che può fare a meno dei gol di Cardi il Milan e l'Inter hanno ecco qua il digiuno dei gol hanno due percorsi nei quali non si può mai quando se ne parla trascurare lo scenario generale perché le grandi colpe di quello che sta accadendo dal Milan e l'Inter sono di Massimo Moratti e di Silvio Berlusconi perché il loro congedo dal Milan e l'Inter è stato talmente catastrofico sia nella qualità tecnica della rosa che hanno lasciato però andava già male l'Inter non diamo le gol sia nel cambio nel passaggio del testimone è stato talmeno torbido l'Inter ha nominato dopo Sabatini il nuovo direttore generale a Natale che è marotta quindi il percorso di crescita di fatto ricomincia il Milan ha nominato la nuova la vecchia proprietà è subentrata con quella nuova soltanto a luglio dell'anno scorso e ha nominato Leonardo 15 giorni prima della fine del mercato e amministratore delegato al primo di dicembre questi processi di crescita sono lenti che cosa hanno determinato l'obiettivo del quarto posto il Milan non parla mai di terzo ma non perché sia più forte delle altre neanche la Roma e la Latteo parlano di terzo posto si sono appiattiti tutti sul discorso Champions perché il discorso finanziario è prioritario rispetto a quello sportivo seconda e ultima cosa il Milan e l'Inter hanno un problema che non riescono più a distinguere i grandi giocatori di quelli mediocchi questo è bravo questo sono d'accordo Mengolan lo sapeva tutto il mondo che la parabola era impicchiata e che c'era qualche altro problemino l'Inter però è l'interista discuti parte tu la meno male sei il primo che sento parte dei cardi l'Inter non va bene ma io divento matto ma è l'unico fuori classe che c'è nell'Inter deve partecipare alla manovra lascialo là poi la manovra la devono fare gli altri nel Milan uguale ci sono degli equivoci con Suso tu non potrai mai decollare ma è il migliore che al Milan è quello che partecipa al 57% delle azioni da gol del Milan però sei crocifisso tatticamente non puoi giocare con due punte non puoi fare un modo lui gioca là e quindi gli altri nove li devi sistemare con Cialanoglu fuori ruolo Pachetà fuori ruolo quell'altro fuori ruolo il centravanti da solo quando non c'è una società forte che impone vi ricordate a lei un bel giorno lui ha detto mi sono svegliato stamattina e mi sono inventato Mandukic di Bala Iguain e Quadrato la società lo ha preso adesso questi qua giocano poi gli altri sette fai come ti pare la società nel Milan e l'Inter ancora non c'è perché se no non arrivi però non direi che è colpa degli ex presidenti però Giaccio non arrivi a dicembre alzi il coperchio e hai Iguain Candreva Gagliardini e Pericic che vogliono andare via gli faccio i Cardi e il rinnovo di Cardi il rinnovo di Cardi hai detto Iguain Luca hai riandato benissimo no Iguain no ma Iguain alla Juve per Allegri alle coperchio le due società giocano a Natale per fare una battuta che Iguain che Andreva Gagliardini e Perici vogliono andare via ma che noi eravamo abituati voi tre anni prima poi citati la Juventus con la lega io ho portato l'episodio una volta si girava via mi hanno detto che ero come il duomo di Milano mi hanno detto per carrossi via sono andato io in sé io ho detto io non vado via adesso funziona al contrario uno che arrivava all'Inter non voleva mai io voglio rimanere questo è l'Inter voglio rimanere devo andare da Luca dimmi Giovanni al volo la domanda d'attualità qual è la domanda d'attualità è funzionale mandar via adesso Spalletti mi risponde Marotta bisogna costruire una mentalità vincente ha ammesso il momento difficile Marotta ma Marotta va avanti con Spalletti per Marotta non ci sono dubbi tra l'altro c'è un dato secondo me molto importante statistico che riguarda la carriera di Giuseppe Marotta in 22 anni di carriera non ha mai esonerato un allenatore c'è sempre una prima volta se vuoi ti do un altro dato statistico quindi la russa due punti no io non voglio vuole l'esonero di Spalletti vuole l'esonero non sono per l'esonero di Spalletti dico che però non ci deve essere una decisione preventiva non si può esonerare Spalletti io spero che noi vinciamo domenica prendiamo tre vittorie di fila che riprendiamo a giocare bene anche in Europa e che alla fine Spalletti sia confermato perché addirittura vinciamo la Coppa UEFA o come cavolo si chiama ma questo non vuol dire che ci debba essere il tabù Spalletti come tutti gli allenatori sa che se non dà risultati anche a metà stagione può essere cambiato perché purtroppo non potendo prendere pedate nel sedere i giocatori che non stanno dando quello che dovrebbero nel sistema calcistico italiano chi paga ahimè è l'allenatore e lui non può essere un eccezionale il problema è cambiarlo con chi si ma questo hai perfettamente ragione è difficile immaginare cambiarlo con chi ce lo dice Alfredo il povero Zenga ce lo dice Alfredo poi se vuoi esatto se fosse stato se fosse stato libero forse sarebbe stata la volta si sta mangiando Alfredo cambiare con chi è Conte anche se Marotta dice che non lo sente da mesi e mesi non può il Conte niente vabbè giustamente Marotta fa il suo ma Conte ha ripetuto speriamo non ci sia bisogno diciamo così ma lo scopriremo soprattutto Conte ha ripetuto Alfredo vai si Conte ha ripetuto mille volte intanto Conte in corsa non l'ha fatto mai e non credo che voglia cimentarsi adesso poi ha ripetuto mille volte che per lui diventa fondamentale chiudere quest'anno risolvendo il discorso causa col Chelsea che non gli viederebbe di tornare ma gli creerebbe un pensiero in più che lui in questo momento non vuole avere perché vuole stare con la mente sgombra Conte ha sferato soprattutto il Real poi ha detto no a tutti al Real senza le parole di Sergio Ramos che parlava di rispetto ancora prima che lui si insediasse probabilmente ci sarebbe andato poi Conte lo conosciamo anche per il suo orgoglio dal punto di vista caratteriale lo aspettavano per la presentazione per la conferenza ascoltò quelle parole e decisi di restare a casa e il Real passò al traghettatore Solari quindi dovrebbe succedere io sono d'accordo con le tesi che mediamente prevalgono in studio da voi a Milano se l'Inter ne perdesse ancora tre è normale pensare che qualcosa accadrebbe ma in condizioni di normalità bisogna andare avanti così Valentina ti do un altro dato statistico voi avete fatto vedere prima come va l'Inter a gennaio febbraio loro tifano per l'esomeno di Spalletti perché non ne possono più allora dopo Mourinho l'Inter ha avuto 12 allenatori ha fatto otto stagioni questa è la nona nelle otto stagioni soltanto tre volte ha fatto la stagione con lo stesso allenatore sono le uniche in cui in qualche modo ha rimediato un obiettivo quando ha cambiato ha sempre sbagliato e questo è un dato era già compromessa però quando abbiamo e questo è un dato che secondo me deve fare da da Stella Polare beh no ad esempio quando andò via Mazzari la stagione non era compromessa Mazzari andò via per una questione ambientale l'ha rotto con l'ambiente si si è vero si va bene pioveva allora pioveva esattamente come ieri sera ieri sera Spalletti ha fatto una cosa che gli resterà appiccicata che è mettere la nocchia centro avanti ma l'ha fatto l'ha fatto in tantissimi l'ha fatto in tantissimi ma siccome anche con esiti positivi siccome l'ha fatto lo facevano anche a Roma lo facevano anche a Roma con pazzo si ma nell'immaginario se voi oggi leggete i tifosi dell'Inter i tifosi dell'Inter sono ignoranti questa cosa di Ranocchia messa centro avanti mi dispiace i tifosi sono ignoranti sarà appiccicata i tifosi sono ignoranti la Spalletti così come quelle parole sono rimaste appiccicate a Mazzari i tifosi sono ignoranti ma domande come Colarov se la tua ricetta è mandare via Spalletti prima della fine di questa stagione è la garanzia che può avere l'Inter di fallire l'obiettivo di avere quarta non dico di vincere l'Europa League che secondo me l'Inter non è costruita per vincere ma se lo mandano via perché l'obiettivo è già andato no no aspetta la ricetta nessuno credo anche perché Spalletti è stato rinnovato un contratto quanto di altri due anni quindi si ma hanno 20 milioni complessivi se lo mandi via magari ti chiedi come mai c'era così fretta quindi vabbè è un'altra parere però in questo momento ma questo sarebbe l'ultimo dei problemi credo credo che sia una cosa di grande difficoltà perché sono d'accordo il cambio puoi andare incontro andare incontro però qua abbiamo una squadra che secondo me a livello psicologico ha avuto un crollo c'è di mezzo il terzo posto l'anno scorso ha avuto un crollo e poi si è ripresa ho capito però prima sottolineavate si è ripresa con Rafinha si è ripresa con Rafinha e Cancelo e ora si riprenderà con Nainggolan mi provoco quest'anno a Nainggolan e Persic da inserire nel progetto esattamente come l'anno fa aveva Cancelo e Rafinha no quelli erano nuove no Cancelo ci aveva ad agosto ed era un gioca e beh certo non giocava perché aveva tutti i difetti che stiamo vedendo quest'anno e non aveva i pregi che abbiamo visto nella seconda metà dell'altro Evaristo scusami ti ho interrotto no no solo un attimo aggiungo che se tu guardi l'obiettivo stagionale quest'anno era di arrivare ancora in Champions League però avevi costruito una base secondo me di 7-8 giocatori che doveva essere lo zoccolo duro di questa squadra per fare 3-4 inserimenti l'anno prossimo per cercare di avvicinarti alla Juve adesso in questo momento la difficoltà maggiore è che probabilmente a livello psicologico la squadra ha avuto un crollo e anche i 7-8 giocatori che tu pensavi che forse potrei puntare al futuro non farmi fare il difensore di Spalletti a tutti i costi però lo fai anche bene 7-8 giocatori che tu citi e immagini io credo che siano Perisic non è una colpa non è una colpa di Spalletti Perisic sono i due giocatori di qualità vi provo con un attimo mi provo con Giancarlo Padovan Alfredo Pedullano aspettate un attimo non ha andato citando Perisic che è una grande delusione voleva andare via a gennaio però non c'erano le condizioni è stato tentato come ha detto Luciano Spalletti alla fine il croato è rimasto e ha giocato titolare nella sconfitta di ieri contro il Bologna quindi massimo recupero di Perisic è stato tra i migliori devi recuperare Perisic devi recuperare a Nangolano io però dico un'altra cosa aspettate in chiave mercato Alfredo ma forse l'Inter non era meglio se avesse venduto Perisic in estate se questo poi è Perisic ma io guarda secondo me lì c'è stato un errore grande di Spalletti in conferenza quando ha raccontato cose che avrebbe dovuto tenere per sé non ha voluto giocare vuole andare via per me l'allenatore queste cose mediamente non le dice soprattutto sotto il mercato lui è stato troppo sincero e per me ha sbagliato deve andare via nel momento in cui l'hai messo sul mercato in quel modo gli altri a gennaio cercano di prenderti per il collo e ti offrono presto con diritto di riscatto e resta da te e abbiamo sempre detto ne parlava anche Giovanni Capuano dal primo febbraio sarebbe stato un problema non è un problema semplicissimo con Zaniolo ah di gennaio con ah perché c'è Ignazio la russa onorevole vuoi fare una domanda e li verani è una gran centrocampista non è di gennaio ma è dall'inizio Zaniolo accostavo Zaniolo e Zaniolo ci può stare che l'Inter non se ne fosse accorta quello che non ci può stare è che non facciamo mai giocare un ragazzo quanti anni è che l'Inter non fa giocare in prima squadra uno della primavera stabilmente io però vi lo chiediamo a Liberani quanto è forte Zaniolo bisogna lanciare i giovani forse è stato si lamentava no la russa mister per il fatto che l'Inter abbia fatto partire così un grande un grande giovane in prospettiva come Zaniolo Liberani sai lì si è fatta una scelta purtroppo sull'immediato quando poi tu fai una richiesta per un giocatore come Nainggolan in automatico è arrivata una richiesta per poter fare l'anno scorso io una partita gliel'avrei fatta fare che la Roma aveva seguito si posso difendere ha detto l'anno scorso una partita ricordiamoci che l'Inter è arrivata fino all'ultima partita cercando di entrare in Champions non è facile mettere dentro un giocatore in un ambiente in cui non è tutelato questo non sono d'accordo credo che la Roma avendo fatto una scelta io credo che la Roma ha fatto una scelta di vendere giocatori diciamo esperti Nainggolan puntando sui giovani quindi in automatico l'ambiente l'allenatore e la società erano tutti schierati su questa nuova politica quindi Kluivert Under Zaniolo tutti giocatori giovani forti e quindi la piazza l'ha diciamo l'ha accettato all'Inter l'ha preso con Spalletti questo percorso e quindi diventava più difficile ma no non mi sente dicevo che la società non ha la cultura di inserire i giovani non è colpa di Spalletti perché è giusto se poi l'anno scorso ogni anno è una scelta in cui andavamo così male che c'era lo spazio per inserire i giovani ma lasciamo stare c'è credo proprio una cultura dell'usato ecco non del nuovo però scusate devo concettare i liberani però non fa becca becca si devo concedere ciao e complimenti non mollare ciao ciao buona vera a tutti buona vera grazie mister in bocca al rumo ti stavo dicendo che non è il fatto di anche sui giovani perché Zagliolo si vedeva che era bravo però il concetto era quello sarà pronto subito la Roma ha fatto una scelta quindi il primo che l'ha visto è stato Mancini per quanto Mancini ha convocato il nazionale il solito Mancini perché la stampa è vero è vero è vero ha detto è scritto che faceva una cortesia esatto sono uno di quelli con la stima che ho di Mancini però in tutta onestà l'operazione Zagliolo l'Inter fa una politica molto chiara e molto precisa ma però Luca fammi finire 10 secondi magari ti posso io credo Spalletti non Spalletti i dirigenti allora a livello giovanile negli ultimi anni l'Inter ha vinto tutto credo che quando tu arrivi in prima squadra un dirigente un allenatore deve dire faccio la rosa di 19 20 giocatori e 3 o 4 giovani li mettono nella rosa della prima squadra ma non è quella la politica e lo sai però se arriva Mago G per dire Mago G dico un allenatore secondo me la società inserisce i 3 o 4 giovani che si allenano con la prima squadra scusa Evaristo ma dobbiamo parlare con la realtà dei fatti ma in Milano e l'Inter ha dei problemi ha avuto dei problemi in 3 anni amministrativi nei confronti dell'UEF che ha risolto brillantemente fino a quando è acclarato dalla legge che si può fare questa roba qua e ha comprato i migliori giocatori in assoluto in Europa per vincere i campionati giovanili via Reggio e rivenderli e farci le cifre questa estate ha sistemato 45 milioni con ragazzi che non hanno mai giocato ho finito ho finito un minuto Zagnolo è la verità Zagnolo va alla Roma con l'operazione Sant'Onco 22 milioni in due uno dei quali non ha giocato un minuto lo convoca Mancini uno dice c'è qualcosa che non funziona posso dire una cosa è sbocciato a sorpresa la Roma non pensava di aver preso un giocatore no ma Mancini sì la Roma no Mancini voleva mancini sì allora vuol dire che se non c'è la pressione tu hai detto la parola se non c'è la pressione della società a Roma scusate a Roma i tifosi negli ultimi tre anni si sarebbero svenati per fare cambio tra la cultura dell'Inter e la cultura della Roma è sempre in diretta negli studi di sport italiani la seconda parte del Monday Night il processo all'Inter prosegue anche fuori onda dietro le quinte Ignazio Larussa vicepresidente del senato sì che succede? non solo prosegue qui prosegue anche sui social ovunque per esempio sulla pagina Instagram Inter 1980 Amala c'è un dibattito serratissimo che coinvolge tutte le tesi che noi abbiamo espresso spalletti sì spalletti no 1980 1980 mi scusa 1908 che è la data di nascita dell'Inter perché ho detto 1980 ma volevo dire 1908 ma perché gli anni 80 sono stato meravigliosi la pagina Instagram Inter amala e ce ne sono tante altre ma io vedo che c'è un grande interesse dei tifosi dell'Inter in questo momento nel tentare di trovare una soluzione sbaglia chi ce l'ha chi punta il dito nei confronti secondo me solo di spalletti ma capisco lo scoramento generale dei tifosi interisti non dimentichiamo che anche contro il Bologna eravamo in 50.000 questo è vero e ha ragione il Presidente del Napoli a dire che lui per fare un incasso come quello che fa normalmente l'Inter ci mette tre partite allora io credo che gli interisti meritino qualche cosa di più di quello che i giocatori la società la squadra gli stanno dando in questo momento posso aggiungere soltanto una cosa negli ultimi due mesi il papà di Lautaro Martinez è quello che è successo Candreva che prima chiede di essere ceduto e poi fa retromarcia e Pastorello dice non c'è mai stato nulla aveva chiesto Candreva di essere ceduto la vicenda per me il fuoricampo fa molto più del campo e certe cose ti restano in testa e non riesci a smaltirle per cui è verissimo che poi tutti i riflettori su spalletti ma se non limiti e non chiudi i rubinetti fuori dal campo con una cosa congrua poi alla fine tutte le situazioni te le riporti dentro e non le tiri via io posso dire anche una cosa al freddo di mercato cioè la celebrazione di Gotti sei il padrone oggi tu hai i due centrali fra i più forti d'Italia probabilmente i più forti dopo che Linio Bonucci hai Miranda e prendi un giocatore che comunque ha 33 anni l'anno prossimo andrà per i 34 ora è un'opportunità è un pallino di Marotta non ho nessun dubbio non mi sembra la priorità dell'Inter perché va via Miranda hanno sostituito però il problema io continuo a ripetere è questo qua è lo scenario generale cioè noi parliamo della Roma la Roma ha un disegno preciso che Monge sta svolgendo alla perfezione prende a uno e rivende a quattro è questo è il suo compito De Laurenti si lamenta nel pubblico De Laurenti sa una strategia precisa fare i soldi col calcio lui non ha preso Benzemao Di Maria o chiunque dopo aver fatto 91 punti per cercare di giocarci ha preso il Bari quindi di che parliamo non è più il progetto ha preso Angelotti ma è vero ho capito ma a giugno purtroppo sta facendo peggio di stare però ha anche trattenuto ha trattenuto Mertens e Kulibali a giugno il Napoli riparte come Milano e Inter perché Albione ha 34 perché Kulibali non si sa perché Allan va via perché Amsic se n'è già andato perché Calleone e Mertens sono lì e ripartono 6-20 anni e beh grazie ha venduto alla fine no alla fine no era difficile per i nostri punti però scusatevi poi ne parliamo di De Laurenti se ascolteremo anche le sue dichiarazioni era difficile confermarsi come inseguitore unico della Juve poi con un credo calcistico completamente diverso ma lo sta smantellando De Laurenti se non ha smantellato in questi tre anni poi lo ascolteremo cioè non è che ha venduto tutti ha venduto Giorginio ma lo stanno facendo quello per accederemo chi sono i due obiettivi scusate De Laurenti ha detto la frase che è manifesto ce l'abbiamo Giovanni giusto ha detto qui i tifosi continuano a immaginare che si debba vincere lo scudetto punto quindi non ce l'hanno più 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 io capisco il ragionamento di Luca ma devo soltanto dire questo sì il ragionamento di Luca ma il problema Luca per me non è il mercato sinceramente se io potessi portare dalla mia parte uno come Godini me lo porterei sempre per me è fatto bene d'accordo e se vuoi fare l'operazione De Poll come l'hanno fatta per me fa bene però io l'avevo sul tavolo il problema è la miscela tra dentro e fuori sì si hai ragione ma la miscela tra dentro e fuori è una roba ingestibile indigesta bisogna fare delle cose che siano all'altezza di una grandissima società come l'Inter perché altrimenti poi non è che il primo febbraio è arrivato e ce lo siamo dimenticati la vicenda Perisic fischiato contro la Lazio che andreva che voleva andare via il papà di Lautaro che risponde i social di Vanda i social di Cardi per me sono delle cose che ti tolgono punti in classifica se tu parti da De Poll dopo Modri siamo appunto a capo Trudico adesso perché Modri c'è un po' di De Poll se Icardi avessi buttato a dentro per quanto minuto forse stavamo a discutere di un'altra stiamo parlando della sfida di Eri con Polbo quello che poi manca alla fine Icardi la punti in dentro i gol di Icardi i gol anche perché se non segna Icardi chi segna l'abbiamo visto 4 gol nelle ultime 8 partite nelle ultime 8 partite giusto guarda la prima parte della risposta di Alfredo la copio faccio la fotocopia però no sul progetto complessivo io credo che il Milan si è detto due anni rispetto all'Inter il progetto complessivo è tutto insieme è societario l'Inter sta per uscire da tutto il rapporto con l'UEFA il Milan ci sta per entrare non si possono bruciare queste tappe poi è chiaro che negli ultimi 6 mesi soprattutto dal punto di vista della strategia societaria che si riflette sulla squadra il Milan ha una linea chiara l'Inter non ancora perché manca un tassello siccome è più avanti e ha la prospettiva di poter in un paio d'anni essere un competitor della Juventus anche sul campo è arrivato il momento che alle parole seguono i fatti ma dove ma dove allora faccio dei nomi rispondimi D'Ambrosio ha preso uno buono che è Cedric ma ha 28 anni che è titolare nel Portogallo e e poi guarda che i giocatori vanno tutti sopra i 30 anni Asamoah due anni da cambiare Borca Valero da cambiare subito Sevesino da cambiare subito Gagliardini da cambiare Peric da cambiare Luca ti faccio io dei nomi no sto parlando di sette giocatori dove sta il progetto a difesa l'Inter è arrivata secondo il mio parere ma è un'analisi sui numeri anche questa al punto di poter fare poter pensare di fare salto di qualità io parlo di squadra io parlo della squadra sì ma poi questa cosa tu la fai in un'estate la fai in due stati l'importante è che tu abbia quella strategia lì l'Inter è a livello di fatturato dove era la Juve nel 2015 andatevi a guardare la campagna della Juve nei mesi del 2015 era una campagna fatta di Alessandro di Bala Mandzukic che dirà questa gente qui se tu mi dici nei prossimi sei mesi l'Inter prenderà Darmian io ti dico che non c'è un progetto se l'Inter nei prossimi sei mesi avrà la forza di far seguire i fatti alle parole fra due anni potrà competere con la Juventus ma è un'ipotesi ma è un'ipotesi io sto dicendo un'altra roba io stavo dicendo no scusami non è nemmeno una certezza che i nomi che hai elencato prima tu poi siano giocatori di 23 anni con tanti nazionali e di là un'interagliatura che ha nel 6 o 7 che fra due anni non ci sono più iscriviti al canale